buongiorno amici benvenuti ad una nuova puntata di amuso duro oggi è una storia un po particolare in italia si conosce se ne è parlato parecchio sui giornali sulle televisioni una storia che ancora non ha una fine la storia è la storia di michele merlo un giovane cantante italiano che stava intraprendendo una carriera veramente importante dopo per mille vicissitudini purtroppo questo ragazzo viene a comparire purtroppo muore e qui oggi abbiamo la testimonianza più forte che possa esistere abbiamo il papà domenico buongiorno domenico e tentiamo di raccontare la storia vissuta da domenico dalla moglie di domenico dalla mamma la storia di michele certo che stiamo ancora vivendo la stiamo ancora vivendo questa storia purtroppo allora domenico raccontaci un attimo la storia di michele come inizia questa storia beh michele è un giovane ragazzo con molti sogni è uno studente anzitutto fa il suo liceo poi si iscrive all'università però in mente il suo sogno è la musica il suo sogno è l'arte il suo sogno è recitare lui dipinge lui scrive un artista 360 gradi un artista completo perché poi lo verrà riconosciuto come tale parte da giovane va in inghilterra dove va a convivere con una ragazza a lui li faceva faceva ragazzo la pari pur di riuscire a vivere in centro a londra si ferma qualche tempo perfezione su inglese lo fa benissimo e poi rientra in italia una volta rientrato in italia io tento di introdurlo in qualche mondo mondo del lavoro ma lui ha in mente solo cantare ha in mente solo l'arte e così si avvia a questo mondo da prima da prima in inglese esce con un album inglese secondo me straordinario nonostante io di inglese non capisca nulla ma una melodia e dei testi che poi mi sono andato a leggere straordinari e poi si approccia ai talk show al talent da subito con x factor dove viene eliminato dopo qualche fase da da risa all'epoca e poi ad amici amici dove entra e da subito è un maschio alfa da subito un protagonista perché il suo carattere era forte deciso non accettava compromessi non accettava condizioni quindi la la vissuta forse anche un po male all'interno di quella di quel talent e lo scopriremo solo dopo quanto male l'avesse vissuto no perché erano due maschi forti c'era lui e un altro ragazzo si chiamava ricchi marcuzzo che ancora un po sulla cresta dell'onda però erano continuamente combattivi continuamente in contrasto ma adesso cominciamo a parlare della storia del purtroppo di quello che è successo michele fa il suo percorso e inizia a lavorare inizia a lavorare con lo studio di modena doveva registrare santuariamente dice un brano con un altro più un altro ancora ed era e stava come fanno tutti i cantanti michele stava decollando decollando perché si ricomincia a parlare sì ma perché aveva già fatto provini con una grossa calco una grossa casa romana per far l'attore aveva già fatto delle cose un corso con muccino aveva fatto delle stava stava decollando insomma è in ritardo ma lui lo sapeva dice io fra sono un subito fra dieci anni arriverò non mi interessa che un talent mi butti per aria per bruciarmi dopo un anno due scomparire mi diceva quante volte quante volte hai visto amici dicono ma sai quanti edizioni sono sono 16 quanti vincitori di amici ti ricordi pensandoci emma marrone pensa dice e tutti gli altri vincitori primi classificati e tutti i secondi tutti i terzi vuol dire che ti buttano per aria immaginano io definisco i talent tempo una fabbrica di sbandati perché coloro che arrivano ai margini del primo posto non hanno questo gran futuro non hanno la qualità artistica ma non hanno neanche il gran futuro i primi classificati che ci sono stati 15 primi 14 primi classificati che sono scomparsi completamente quindi cosa vuol dire che creano uno stereotipo creano un soggetto ad arte perché perché va da un anno due viene gestito e ci guadagnano e poi scompare e ne creano altri altri venti altri 15 altri 10 però chiudiamo il discorso dei talent e delle cose parliamo della storia la storia la storia triste di michele la storia la storia è questa michele fa l'artista ci anche noi rinunciamo ad introdurlo in un'altra strada consapevoli noi maturi adulti che la strada dell'artista innanzitutto scusami che ti faccio una domanda figlio unico figlio unico michele è figlio unico e inizia questo percorso artistico va a vivere da solo da vivere in centro bassano noi abitavamo a cinque chilometri quindi lo vediamo pochissimo nel senso che lui indipendente con la sua macchina dei suoi suoi treni perché aerei non ne prendeva più dopo l'inghilterra non voleva più saperne di aerei anche lui aveva delle sofferenze delle ansie sue come tutti diciamo un po come tutti gli adolescenti ma dopo a me si è iniziato ad averne ancora molto di più ma comunque va bene così andata è stato un bel un bel periodo per lui quindi bisogna ricordarlo così anche un talent nonostante le cose positive e negative che può avere un talent lui lui va a vivere da solo e inizia questo percorso musicale noi lo vediamo saltuariamente quando rientra da modena piuttosto che da milano piuttosto che da roma perché si era trasferito a vivere a roma non riusciva a viverci era una città caotica troppo grande poi rientrato ha provato ad andare a vivere a milano uguale uguale lui arrivava a bassano del grappa e respirava quella era la sua dimensione le sue passeggiati il baretto la colazione era un ragazzo degli altri tempi un romanticone amava le cose amava gli anni ottanta guardava i tuoi film guardava questo faceva Michele inizia questo percorso e se arriviamo al momento che lui sta male arriviamo ad un all'ultima canzone che ha registrato che la chiamo quasi un suo testamento un suo testamento che si chiama farfalle è una canzone che se uno l'ascolta capisce la sofferenza che lui aveva lo accompagno a modena quel giorno non lo vedevo in scusate ma non lo vedevo mio figlio viveva da solo aveva la sua la sua indipendenza la sua intimità giustamente e andiamo a registrare questo pezzo al termine della serata nello studio di registrazione ci ritiriamo in albergo e avevamo preso una camera una doppia in due tanto per stare insieme lui si spoglia noto che ha un ematoma vastissimo su una gamba che non capivo non riuscivo a capire cosa potesse essere e gli dico ma cosa hai giocato a calcetto no hai fatto palestra hai preso una botta lui giocava a golf lui la sua passione era giocare a golf a meno che non gli abbiano dato una mazzola dei golf giocava a golf con uno zio tra l'altro 80enne quindi andava per bigliettimento andava a giocare a golf si stava approcciando questo mondo e cantava quindi non faceva traslochi non faceva sport pericolosi non faceva niente di niente e mi dice no sai è una botta dico guarda che non può essere una botta non è una botta assolutamente poi noto che anche sulla schiena qualche piccola macchia macchia che io non penso minimamente a una forma leucemica perché siamo distanti anni luce la leucemia è un male silenzioso che che probabilmente lui probabilmente non probabilmente poi abbiamo acclarato che ce l'aveva da qualche mese e si era anche fatto vedere in precedenza qualche mese prima ma non risulta registrato non risulta medici non la confermano sta cosa quindi in sostanza le dico domani rientriamo e vai subito e vai subito farti vedere da chi va a farsi vedere allora noi rientriamo l'indomani mattina lui va al pronto soccorso di bassano da grappa subito c'è un macello di gente allora prende si allontana va fuori provincia a 10 chilometri in pronto soccorso di cittadella cittadella li fanno un triage però non lo aspetta tre ore quattro ore cinque sofferente va in ansia perché dice ma mio papà mi ha detto cosa faccio e non prende se ne va chiama il centro medico dove al medico di famiglia ancora nel comune di rosà e non gli rispondono allora manda una mail usa una foto di repertorio della gamba che ha non è una foto di quel giorno scopriremo solo dopo che è una foto di 20 giorni prima ma non è mai quello che è stato è stato manda questa foto via mail e dice chiedo di avere un appuntamento col medico un medico di famiglia che anche lì devi chiedere di avere appuntamenti una famigerata che non si firma segretaria gli risponde questa media dedicata a pazienti non inviare foto a questa questa mail allora lui prende va su da questo centro medico batte i pugni come al solito fare si fa ricevere dal medico gli mostra la gamba il medico dice di aver visto solo la gamba e nient'altro però dobbiamo fino a prova contraria non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo lì da gli fa fare un massaggio da un infermiere un addetto servente non so che sia massaggio con una pomata fa una gardatura mi sembra si chiami scusami ma nel massaggio che gli fanno quest'ematoma sparisce assolutamente no addirittura mi chiede fa un video mentre il tipo di far massaggio documenta questa cosa questo documento c'è esiste sì sì ce l'hanno gli avvocati c'è c'è un video c'è la foto questa gamba nera che si nota e si vede gli fanno questa bendatura ramata mi sembra si chiami in termine medico e lo mandano via gli danno un antibiotico prendi questo antibiotico qua e ci sentiamo domani lui dice al medico ora che domani io vado a modena di nuovo perché sto registrando dei divani e chiamami da modena fammi sapere come va la situazione io adesso la ricostruisco come come siamo riusciti a ricostruirla dai racconti del medico e dai racconti di michele lui torna a modena inizia a prendere sto antibiotico però poi un medico a modena non so chi e non sappiamo chi non sappiamo cosa gli dice non prendere questo ma prendi questo allora lui aveva perciò lui aspetta il medico di base quello che ha visitato gli dà una terapia da un antibiotico una terapia la terapia si anche un altro medico trattandolo come un emato come una botta esatto questo stavo specifica ecco lui che quel medico lì se non sbaglio dice questo è una botta da trasloco si hai fatto un trasloco lui riferisce a noi che michele avrebbe riferito di una di un trauma facendo un trasloco che non ha fatto mai traslochi michele non ha fatto mai nessun trasloco michele faceva ripeto musicista faceva l'artista faceva quello che a lui piaceva fare fortunatamente aveva due genitori che quando non ci arrivava lui lo supportavamo come succede spesso diciamo che porta una chitarra porta non è che ti possa fare dei danni prima tornare cioè se fai il kickboxing forse prendi un calcio con una gamba ma lui non faceva niente di pericoloso non sciavano torna a modena a modena a male si sente male anche poi la emorragia stava andando in tutte le parti c'è un suo post che mette l'ultimo giorno che con un tramonto dice ho dolori dappertutto vorrei un tramore adesso non ricordo neanche quello il suo post che rimane su instagram perché da lì in poi lui va in coma era operato mano in sostanza a modena vada un fisioterapista si fa fare un massaggio anche questo lo vede perché lo spoglia il fisioterapista e comunque è quello che ha la colpa minore perché non è medico non è li fa questo massaggio che non gli allieva niente lui continua a stare a modena soggiornava a marzabotto mi sembra sui monti di bologna da una sua amica la morosetta della ragazza che si frequentavano e una sera sta male dice vado giù in ospedale a vergato va in ospedale che è un centro medico ma in questo fuori bologna si fuori bologna sulle colline non lo so dove sia io sono stato anche ma sto rimuovendo quella parte di bologna e lui va in questo pronto soccorso dove perché perché ha sangue in bocca all'emoragia ce l'ha già sta già andando e ha delle piaghe del sangue che li colla in bocca e vado a questo questo medico lo vede gli dice ma cosa vedi in tasare pronto soccorso non c'era anima viva perché lui ha mandato i vocali alla ragazza la sua fidanzata che si chiamava si chiama luna e dice luna questi mi hanno cacciato dicono che non devo in tasare pronto soccorso non c'era nessuno per tre per due piaghi in bocca viene in tasare pronto soccorso e lui torna a casa torna a casa lì si sente male non so se la stessa sera adesso possa anche avere ripeto sto tentando di rimuovere costruire ma ti racconto solo voglio raccontarti solo questo perché lui sembra sia stato proprio assalito da questi medici qua tant'è che poi non finisce neanche qui perché chiamano a un certo punto lì domani sera forse o la stessa sera che lui fa questo posto che dice sono pieno dolore dappertutto praticamente lui aveva capito che c'era qualcosa che aveva capito che c'era qualcosa che non andava non avevano capito tutti i migligenza per incapacità io dico sempre che io ero appena uscito dal covid in terapia intensiva quindi ero molto debilitato ero molto e dico sempre che lo dico in tutte le trasmissioni che questa che questa morte è figlia di un sacco di cose è figlia del covid di una pandemia dove eravamo impreparati il vaccino l'aveva fatto? ma Michele sì aveva fatto anche il covid aveva chiamato addirittura a pagamento due medici in casa di quelli che venivano in casa a visitarti eccetera ma è figlia di un sacco di cose figlia di mancanza di personale figlia di tagli trasversali alla sanità cioè figlia di tante cose lui è solo uno dei tanti a cui è successo questo ed è il mio figlio ed è l'unico figlio che avevo lui in sostanza non si sente bene inizia a vomitare per fare un po' di sintesi quella sera va a letto gli dice alla sua ragazza io vado a dormire perché non sto bene va nella stanza a fianco lei lo sente rantolare lo sente fare dei gesti va di là lui è già in coma lui è già in coma chiamano 118 interviene un'ambulanza con l'automedica arriva un medico perciò c'era il medico a bordo c'era il medico a bordo ma un grande medico anche adesso ti racconto che è un grande medico questo questo entra e trova questi due ragazzi uno ragazzo in coma e una ragazzina giovane bella simpatica di una famiglia per bene tra l'altro e lì dice ah vi siete drogati dice no guarda guarda tu amoroso che muore di droga vieni e io nel frattempo arriveranno i genitori di questa ragazza qua che mi chiamano al telefono e io sento al telefono questo medico che dice questa cosa qua vi siete drogati e prende sta ragazza e dice adesso guardalo che muore così imparate a drogarvi e lei gli dice guarda che noi non siamo drogati noi siamo qua stavamo guardando la tv lui si è sentito male no 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 testimone il papà testimone la mamma di questa ragazza qua che poi denunceranno questo medico qua anche e verrà rimosso questo medico qua praticamente fino all'ultimo è stato accusato di una cosa che non era fatto Michele era contro la droga Michele non fumava non beveva non faceva sport e basta faceva e quindi anche in quell'occasione hanno infierito fino alla fine su una persona già già morta perché di fatto lo porto in ospedale lo operano d'urgenza e lui rimane in coba due tre giorni quando scusami quando hanno capito che era leucemia quando è stato operato il dirigente del decimo piano a bologna l'ha capito immediatamente quando è arrivato non serviva di se ce l'ha ci ha chiamati quando non c'era più nulla da fare ci ha detto guardate io ho capito immediatamente di cosa si trattava e l'ho operato d'urgenza la notte stessa gli abbiamo aperto la testa per tentare di togliere questa di vedere se c'era e ci ha anche detto se suo figlio vive rimane un vegetale quindi perché era stato lesionato il cervello era già andato quindi pensa come un genitore con una odizia del genere e qui parte una causa qui parte una causa allora parte una querela immediata da procura repubblica due giorni il giorno dopo la morte lo facciamo immediatamente perché la responsabilità è su bologna in quel momento lì non c'è niente c'erano altri che è sudargato su questo centro medico che l'ha mandato via con sangue in bocca con difficoltà di girare la testa con i segnali c'erano tutti con degli ematomi nel frattempo gli ematomi erano anche aumentati da tutte le parti non so se voi avete visto la foto ma c'è basta cercarla si trova come in rete una cosa che se ne è parlata parecchio sembra che guarda io ti dico la verità quando quando ho detto che facevamo questa questa cosa ho detto un po' mi sono documentato sapevo di questa storia e la prima cosa che mi è venuta in mente veramente che è difficile che un giudice non possa incolpare qualcuno allora medico perché anche io che sono incapace guarda guarda io io sembro freddo sembro freddo perché me lo dicono tanti ma ho fatto ho chiesto a me stesso di avere una forza scusate tranquillo una forza superiore per affrontare questi temi qua io ho fatto tanti anni nell'arma i carabinieri quindi di polizia giudiziaria e di colsi il processo penale qualcosa mastico praticamente i periti dicono i periti del tribunale ma anche i nostri periti di parte dicono il medico è sbagliato il medico è stato sicuramente una negligenza una terapia iniziata subito una serie di medici una serie di medici ma loro danno poi bologna scarica tutto sul medico del 26 maggio il medico di base che comunque il medico di base l'aveva visto anche precedentemente a detta di Michele e non l'aveva e non si era accorto non aveva diagnosticato questa cosa o aveva preso fischi per fiaschi insomma noi partiamo dal 26 perché non possiamo dire se io ho foto di aprile e ho foto di marzo con Michele che dice ho preso una botta una caviglia ho preso non so dove ho un ematoma sono andato al medico mi ha detto che non è niente quindi c'è stato anche tutta una fase precedente a quel 26 maggio Bologna Bologna rimanda tutto scarica il fascicolo ovviamente dice noi c'entriamo niente l'abbiamo visto a due giorni dalla morte arrangiatevi voi Veneto e quindi il fascicolo passa dalla Procura della Repubblica di Bologna alla Procura della Repubblica di Vicenza i magistrati noi chiediamo un'incriminazione chiaramente per omicidio colposo perché di questo si tratta per colpa non per dolo sia mai ma per colpa questo ho sbagliato non si dovrebbe sbagliare con le persone no perché io come quando vado in ospedale sono riduce da un ricovero dico sempre e lo scrivo gli ospedali devono far tornare alle persone non i conti i conti sono altri dove fare sa però che c'è che se uno va dal meccanico e sbaglia il meccanico ha sbagliato su un motore si ripara se un dottore o un medico sbaglia su un paziente ha sbagliato su una vita e qua ti chiedo visto che la storia secondo me è molto importante il tempo a nostra disposizione è quasi finito io dividerei questa storia in due parti adesso abbiamo raccontato fino a qui e ci prepariamo per la seconda puntata e racconteremo la fine fino ai danni che sta subendo la tomba di tuo figlio certo volentieri allora amici questa è stata la prima parte della storia di Michele raccontata dal padre Domenico vi do appuntamento alla prossima per raccontarci che il nostro Domenico è anche molto preso e emozionato lo capisco perfettamente un unico figlio per raccontarci ancora la storia di Michele sperando che qualcuno prenda dei provvedimenti alla prossima grazie